Parlerà anche Iberico il nuovo management che gestirà la tratta dell'autostrada tra i Napoli Salerno. In attesa dell'esito degli approfondimenti annunciati dalla stessa commissione esaminatrice, il consorzio SIS di Torino subentra ad Autostrade Meridionale S.P.A. del gruppo Autostrade per l'Italia, che fa capo alla famiglia Benetton. A ufficializzare la notizia è stata proprio Autostrade Meridionali S.P.A. al termine della seduta di gara svoltasi a Roma, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I rappresentanti di Autostrade Meridionali annunciano di avere presentato istanza di accesso agli atti per analizzare l'offerta del concorrente SIS, in base anche all'esito della gara pubblica, che dovrà gestire la 3 Napoli-Salerno. Potrebbe essere quindi presentato un ricorso per invalidare l'esito della gara svoltasi presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'Autostrada 3 collega Napoli a Salerno, estendendosi per 52 chilometri nel circondario di Napoli e nella provincia di Salerno.